Da oggi le tue radio preferite sono anche sul digitale terrestre. Radio Canale Italia sul canale 780 con le migliori hit del momento. Radio Volami nel cuore sul canale 781, le canzoni più belle di sempre. Se vuoi promuovere con noi la tua attività o il tuo evento, chiamalo 049 87 33 000 oppure invia una mail a italiapubblicitachiocciolacanalitalia.tv